Su Clusone sventola la bandiera arancione e oggi c'è proprio una giornata dedicata a questo riconoscimento. Esatto, Clusone ha preso nel 2008, questo è un importante riconoscimento da parte del Touring Club Italiano, la bandiera arancione appunto, e per quest'oggi come tutti gli anni abbiamo la giornata delle bandiere arancioni. Come Clusone abbiamo organizzato questa mattina una simpatica gara con percorsi e ostacoli naturali, la Crazy Race, molto positiva e questo pomeriggio invece organizziamo delle visite guidate gratuite per le vie del centro storico. Le visite guidate vengono organizzate in collaborazione con il MAT, con il MAT Museo, e durante le visite guidate daremo come turismo proclusone dei gadget sia del turismo proclusone che del materiale informativo. In collaborazione con i sapori seriani daremo anche un prodotto tipico a tutti i partecipanti e alla fine delle visite guidate offriremo sempre ai partecipanti un aperitivo in collaborazione con il Bar L'Eroi e sempre con i sapori seriani di prodotti tipici della zona. Quindi la bandiera arancione diventa un ulteriore valore aggiunto per la cittadina? Esatto, la bandiera arancione è un importante riconoscimento, le cittadine che lo desiderano devono comunque offrire qualcosa al proprio turista. Come clusone abbiamo un importantissimo bagaglio culturale arricchito da dei bellissimi percorsi naturalistici nelle nostre pinete, nelle nostre montagne e anche un nuovo e bellissimo museo che è aperto da pochi anni. Per far questo comunque dobbiamo continuare ad invogliare il turista e a valorizzare il nostro territorio. Per questo sia Turismo Proclusone che i numerosi enti turistici e non solo presenti sul territorio continuano a organizzare manifestazioni per coinvolgere anche nuove persone sul turismo clusonese.